Condomani.it Nel nostro social network il condomino può ad esempio avvisare gli altri condomini che sta organizzando una festa e scusarsi del rumore o anche magari delle votazioni per scegliere di che colore fare l'edificio ma ancora di più io condomino posso controllare tutta la contabilità, le mie rate, le mie spese e vedere in qualsiasi momento qual è la situazione del bilancio condominiale, posso scaricarmi le fatture. L'amministratore invece gestisce la contabilità con uno strumento potente online ma soprattutto trasparente perché è la nostra parola chiave.